La filiera automotive in Abruzzo è una realtà economica importante, 116 imprese attive nella fornitura con un fatturato superiore a 4 miliardi di euro e 11 mila addetti. La concentrazione con 58 imprese si ha in provincia di Chieti nel distretto Sever Honda, molto alta la percentuale di export pari al 42% del prodotto regionale, con trend in crescita già nel 2011 alla ripresa dalla crisi. A guidare l'export sono i veicoli commerciali leggeri e la componentistica, che non è solo per Fiat. I mercati di riferimento sono in espansione, oltre l'Europa, dell'Unione e non, ci sono anche 5 economie emergenti. L'indagine, presentata dalla Camera di Commercio di Chieti, realizzata in collaborazione con l'ente camerale di Torino e l'Anfia, l'associazione filiera industria automobilistica, fotografa la realtà industriale ad oltre 40 anni dai primi insediamenti in Val di Sambro. Oggi la filiera si attrezza per andare oltre la crisi, ma è necessario tutelare la produzione finale locale e strutturare ricerca e innovazione. Così Silvio Di Lorenzo, presidente della Camera di Commercio di Chieti, spiega le motivazioni del Campus dell'Automotive, un progetto sostenuto dal Ministero dello Sviluppo Economico. Su 800.000 veicoli prodotti in Italia, veicoli leggeri, 220.000-230.000 si fanno in Abruzzo. Quindi abbiamo abbondantemente superato il 20-25%. Questo veicolo adesso va, ma ha bisogno di avere delle fasi innovativi, quindi ha bisogno di essere alleggerito, ha bisogno di essere ulteriormente trasformato con materiali leggeri, ha bisogno di una forte innovazione nell'ambito dell'alimentazione, quindi l'ibrido elettrico. E tutte queste cose, se riusciamo a fare in Abruzzo, evidentemente riusciamo a mettere un piede forte qui in questa regione ed evitare che magari queste innovazioni vengano fatte in altri posti dell'Europa o del mondo e poi vengono dette o vengono imposte senza nessun passaggio, senza nessuna ricerca e miglioramento per noi. Quanto costa il Campus e quale sarà il primo step? Il Campus più o meno, siamo intorno ai 40 milioni di euro, noi stiamo anche valutando la possibilità di spendere meno, la regione ci ha dato circa 33 milioni di euro, 3 milioni di euro per mettere alla Camera di Commercio, altri soldi dobbiamo trovarli, ma noi contiamo di rientrare in quei parametri che ci sono stati assegnati dalla regione, facendo delle innovazioni anche durante la costruzione e durante anche la gestione del Campus. La ricerca è stata condotta e redatta da Step Ricerche, i dati sono stati illustrati da Filippo Chiesa, l'Abruzzo, dice il TG Max, ha una peculiarità unica in Italia, con la joint venture via SPSA. Vi erano una volta produzioni di nicchia di Mercedes piuttosto che Ford, piuttosto che BMW in Piemonte, adesso l'unico produttore estero che fa volume in Italia è il gruppo PSA, proprio in Abruzzo. Significa avere una filiera che non è solo una testa di filiera, ovvero non solo produce beni finali, ma è in grado di fornire parti e componenti alle industrie di assemblaggio finale. Quindi più di 100 attori che assieme agli assemblatori finali fatturano, ricavano più di 4 miliardi l'anno e sono in grado anche di esportare all'estero assieme per più di 3 miliardi l'anno. E questo sicuramente è un motore di sviluppo per qualsiasi regione, tanto più per l'Abruzzo. E non a caso il 40% degli impieghi, degli addetti nel manifatturiero trova lavoro nel settore automotive, dalle 2 alle 4 ruote.